La sua scelta di conferire un incarico esplorativo permette alle forze politiche della maggioranza uscente di fare ciò che Italia Viva chiede da tempo, un confronto sui contenuti. Questa discussione non è una discussione tra singole forze politiche, tra singoli interessi di parte, è una discussione importante sul futuro del Paese, su come spendere 200 miliardi del Next Generation EU, che sono soldi dei cittadini e soprattutto dei cittadini di domani, e su come affrontare la prima emergenza, che è quella della vaccinazione. Per anni ci hanno raccontato i Novavax che i vaccini erano un problema. Oggi vediamo di fronte alla pandemia che il vaccino è l'unica strada per uscire dalla terribile crisi in cui siamo. E non servono interventi stravaganti e bizzarri, non servono primule come non servivano i banchi a rotelle per le scuole. Serve una vaccinazione di massa, serve una grande capacità organizzativa nei prossimi settimane e mesi, serve un investimento in sanità all'altezza delle aspettative dell'Italia. Per questo abbiamo proposto al Presidente incaricato di verificare, incaricato dell'esplorazione, di verificare la possibilità di accordo sui temi che Italia Viva ha sottolineato. Ce ne sono molti che sono divisivi, lo sappiamo, ma sono tutti nell'interesse dei cittadini, dalle scuole alle necessarie risorse sulla sanità, al ruolo della struttura commissariale, alle piccole e medie imprese che soffrono, il progetto Bottega 4.0, gli interventi sulla riforma del terzo settore, il tema della casa e del disagio sociale in un momento nel quale rischiamo di vivere con forza un aumento del numero dei poveri. Non servono riunioni notturne fino all'alba, non servono emendamenti che arrivano di notte, serve un metodo condiviso e serve soprattutto un documento scritto. Questo per noi è il punto fondamentale. Siccome questa non è una crisi che nasce dai caratteri e dalle simpatie e dalle antipatie, ma nasce dalle risposte da dare ai cittadini, noi siamo pronti a fare la nostra parte su un documento scritto che chiarisca chi fa cosa e in che tempi e che tolga a tutti gli alibi. Naturalmente Italia Viva preferisce la soluzione di un governo politico alla soluzione di un governo istituzionale, su cui pure abbiamo dato la disponibilità. Pensiamo che sia fondamentale in questo momento non spendere male i soldi che l'Unione Europea ci ha dato e per questo siamo pronti a fare tutto nelle prossime ore per trovare gli opportuni accordi. Nella giornata di domani, di lunedì e di martedì, tutti noi siamo a disposizione del Presidente Fico per arrivare a un punto di caduta che metta al centro l'interesse degli italiani e non le ambizioni di quei partiti che oggi hanno visto in questo passaggio così delicato e difficile emergere le contraddizioni. Per noi prima vengono le esigenze degli italiani, poi le nostre, poi le nostre anche del nostro partito oltre che degli altri. Chiudo. La Costituzione ci impone di servire il Paese con discipline e onore. Oggi è stato richiamato un'ulteriore parola che è la parola lealtà. Noi pensiamo che essere reali significhi dire nelle riunioni private esattamente le stesse cose che poi si spiegano fuori. Non vi è cioè una diversità tra ciò che si dice in pubblico e ciò che si dice in privato. Da questo punto di vista per noi la lealtà è un punto fondamentale. Da mesi chiediamo di discutere di contenuti. Tra di noi c'è chi si è dimesso lasciando la propria poltrona, il proprio incarico, la propria responsabilità per dare una mano ad arrivare a una soluzione. Siamo pronti a lavorare con disciplina, onore e lealtà, dicendo in faccia chiaramente ciò che serve alla cittadinanza italiana. e siamo pronti a farlo fin da subito. Ci sono domande? Prego. Buonasera, Maria Carmela Fiumanò dell'Agenzia Dire. Lei diceva che siete soddisfatti del fatto che adesso si discuta dei contenuti. Prima di lei c'è stata anche la delegazione del Movimento 5 Stelle. Vito Crimi ha detto che bisognerebbe mettere da parte però certi argomenti divisivi. Il MES ha menzionato. Voi siete disposti a metterlo da parte, a cantonare questo tema? Ci sono molti elementi divisivi. L'elemento divisivo è il MES, l'elemento divisivo è il blocco delle infrastrutture, il reddito di cittadinanza, sono i banchi a rotelle, sono le scuole. Su tutti questi temi ci sono opinioni diverse. Io credo che nessuno possa pretendere di imporre agli altri le proprie idee. E da questo punto di vista Italia Viva è pronta a discutere e a ragionare di tutto. Ma abbiamo bisogno di un tavolo nel quale queste cose le diciamo. Abbiamo bisogno di una comune energia per cercare di risolvere il problema. Quindi il MES vuol dire 36 miliardi di euro per la sanità. Noi siamo convinti che questi soldi servano ai nostri infermieri, ai nostri ricercatori, ai nostri ospedali, alle nostre strutture della medicina territoriale. Se il Movimento 5 Stelle è contrario, come ha sempre sostenuto, cercheremo di capire le ragioni e cercheremo di affrontare tutti i punti in discussione, non soltanto quello del MES, certo è che se noi siamo disponibili a farci carico di trovare delle soluzioni sul MES o su altro, vogliamo verificare che la disponibilità sia anche degli altri. Perché noi vogliamo un governo politico, ma non a tutti i costi. Buonasera Andrea Molino, Tg La7. Le delegazioni precedenti, quindi PD e 5 Stelle, immaginiamo anche quella di Leo che sta incontrando il Presidente Fico, hanno fatto per il Governo il nome di Giuseppe Conte. Voi su questo nome siete d'accordo o avete qualche preclusione? Mi perdonerà se sono leggermente ripetitivo. Noi abbiamo sempre detto che i nomi arrivano dopo il dibattito sui contenuti e questo metodo di lavoro è il metodo che sta portando avanti molto opportunamente il Presidente Fico. Quindi non abbiamo discusso di nomi. È chiaro che i nomi sono importanti, ma arrivano alla fine. Vale per la Presidenza del Consiglio, vale per tutti gli incarichi di responsabilità. Se la domanda è, avete parlato di nomi con il Presidente Fico, la risposta è no. Prenderei l'ultima, se no poi ci sono polemiche per la durata della conferenza. Qui? L'ultima. Luigi Ambrosio, Radio Popolare, buonasera. Lei ha insistito anche questa sera sull'aspetto strategico dei fondi europei. Come si fa a incidere sulla gestione futura dei fondi europei senza posti di governo, centrali, un ministero economico? Potrebbe essere il ministero dell'economia o un altro ministero economico? Noi non vogliamo chiedere un ministero per noi. Se avessimo voluto farlo avremmo già ottenuto, perché tutto è mancato, tranne che la disponibilità a ragionare di posti di responsabilità. So che non è normale, ma noi siamo l'unica forza politica che ha detto prima parliamo di idee, poi ragioniamo di nomi. Rimanendo sul punto, sul Next Generation Youth, 209 miliardi di euro, che segneranno il destino delle nuove generazioni, che segneranno il futuro, perché se fossero spesi male ci troveremmo in una situazione devastante di aumento del debito pubblico e di difficoltà a costruire la crescita. Di fronte a questi 209 miliardi di euro noi siamo disponibili a ragionare insieme di quali sono le riforme che servono, perché non dimentichiamo che questi soldi, prima di discutere su chi fa il ministro del singolo settore o dell'altro settore, richiedono una chiarezza di intenti sulle riforme necessarie. Non sono denari che verranno sicuramente nelle nostre disponibilità, verranno nelle nostre disponibilità soltanto se noi saremo nelle condizioni di fare un piano di riforme. Dunque, non è un problema di quale Ministero avrà Italia Viva, se è un Ministero economico o un altro tipo di Ministero. Quello che è fondamentale oggi è discutere come vogliamo spendere questi soldi. Per noi in investimento, non in sussidi. Per noi nell'educazione, nella scuola, nella ricerca di cui non parla mai nessuno e non semplicemente nella gestione del day by day. Faccio un esempio e chiudo su questo. Nella legge di bilancio del 2021, quella approvata, mi pare che vi siano circa 4 miliardi di euro sul cashback. È una misura che non è strategica, sono tanti soldi. Per noi serve molto di più un investimento sulla digitalizzazione vera, sul lavoro giovanile, sull'investimento per le nuove tecnologie, per creare nuovi profili, perché i nostri ragazzi non debbano emigrare e perché magari le nostre università attraggano i migliori talenti da tutto il mondo. Questo è pensare alla prossima generazione, next generation. Poi naturalmente c'è da comporre un quadro di governo, se saremo nelle condizioni di farlo, e non mancherà la nostra voce, ma arriva alla fine e non all'inizio. Siamo davvero felici del fatto che ci sia riconosciuto finalmente che tutto ciò che dicevamo non era finalizzato a una semplice richiesta di nuovi posizionamenti o di poltrone, ma era finalizzato a parlare del futuro degli italiani. Sì, l'ultima, però l'ultima perché se no poi dicono che facciamo troppo lungo. C'è una cosa che unisce tutte e tre le delegazioni che hanno incontrato oggi il Presidente Fico, la richiesta di sottoscrivere un patto di governo che arrivi alla fine della legislatura. Però tutti ricordiamo che anche quando si costituì il governo giallo-verde si passarono giorni e giorni a discutere, poi si sottoscrisse un patto di governo, però quell'alleanza non è durata. Dunque forse non è questa la garanzia di una maggioranza che possa arrivare a fine legislatura. Io penso che sia molto più serio prendere un impegno di fronte agli italiani dicendo si fa questo, questo e questo, che non fare riunioni notturne fino all'alba per trovare degli accordi che sono poco chiari. Quindi secondo me è preferibile uno strumento di chiarezza all'esterno, verba volant, scripta manent, perché se noi siamo nelle condizioni di presentare di fronte agli italiani un documento dicendo sulle riforme si fa così, sul next generation si fa così, sulla scuola si fa così, sui vaccini si fa così, siamo molto più credibili. Per esempio è evidente che il piano vaccinale è la priorità assoluta e su questi temi mi piacerebbe molto poter esplicitare come le nostre idee sono idee che sono finalizzate a cercare di dare crescita e non sussidi al nostro Paese. Quindi comprendo che in passato vi siano stati elementi diversi, ma noi siamo per un documento scritto e condividiamo l'idea di un cronoprogramma dove sia chiaro chi fa cosa, in che tempi, così che gli italiani possano valutare chi è che nel caso stia eventualmente venendo meno alle proprie responsabilità. Grazie mille. Buonasera a tutti.